Bene, benvenuti, vediamo di nuovo quello che abbiamo fatto nella lezione di martedì scorso su Avastar Dunque Avastar è un prodotto a pagamento, si trova sul sito di machinimatrix.org Si chiama Avastar, si fa abbastanza in fretta a trovare Basta cercare su Google Mettiamo Avastar E vediamo comparire un sacco di cose Quindi machinimatrix e qui abbiamo questo prodotto Ora, la cosa che volevo un attimino chiarire con molte è che cosa serve Avastar Perché ci sono delle leggende urbane che dicano che Avastar possa fare qualunque cosa Quindi che possa fare Prims, che possa fare Sculpted, Mesh, Amity, eccetera Allora, bisogna subito sfatare qualche piccolo mito Perché Avastar, pure venendo dalla stessa compagnia che ha fatto Primstar e prima di lei Jazz Non c'entra niente con gli Sculpted e quindi con i Prim Insomma, non è tendenzialmente un prodotto fatto dedicatamente a Second Life Anche se c'è un forte supporto per Second Life Quindi quello che è importante è che Avastar è stato creato fondamentalmente per fare, come dice il titolo Character creation and animation Quindi character creation, characters sono praticamente le persone, i personaggi E quindi sono degli avatar Probabilmente all'interno di character è incluso anche il concetto di abiti E l'animazione è conseguente Dove per animazione non è detto che sia qualcosa che finisca sempre e soltanto su Second Life Ma potrebbe anche essere qualcosa generale anche per Blender o per altri scopi Detto ciò, noi invece ci concentriamo su quello che è Avastar rispetto a Second Life E quindi vediamo quali sono le cose che può fare Avastar Quindi Avastar dà una serie di aggiunte a Blender Che permettono di modellare con degli aiuti Permettono di rigare, quindi danno degli aiuti rigging Rigare poi di conseguenza vuol dire anche waiting Per fare delle animazioni Quindi l'output che noi ci aspettiamo da Avastar è fondamentalmente O un avatar, cioè un punto da A, un collada insomma rigato Con tutti i pesi a posto Oppure addirittura possiamo anche avere un anim Oppure un bvh che sono dei file di animazione O comunque dei supporti per poter fare animazione in Blender La cosa più interessante di Avastar forse è per chi vuole fare Fitted Mesh Perché il supporto al rigging dei caratteri o dei personaggi O al Fitted Mesh è probabilmente reso quasi soltanto da Avastar In realtà si può fare qualcosa del genere anche con l'Avatar Workbench Ma non è, insomma, è abbastanza complicato Specialmente sulle Fitted Anche se ho fatto invece dei video dove si vedeva chiaramente Che si potevano fare dei rigging su Avastar Workbench Comunque c'è un'apposita pagina che vediamo qua Che spiega come, insomma, quali sono le differenze fondamentalmente Fra Avastar e il Workbench Allora, queste sono le cose che fa tendenzialmente in più Avastar Quindi può, ad esempio, e qui lo vediamo magari un attimino Poi in dettaglio più anti Vediamolo direttamente Quindi, diciamo che nella colonna di sinistra Vediamo cosa fa Avastar E nella colonna di destra vediamo cosa fa Blender Con il Workbench Dunque, le shape La prima cosa che può fare Avastar È la possibilità di importare e esportare delle shape Nel formato XML Questo è una cosa molto importante Per chi eventualmente modella Negli abiti Su delle figure specifiche di Second Life C'è una funzionalità Adesso faremo poi una piccola demo Cioè, abbiamo fatto una demo di come funziona questa funzionalità In cui voi il vostro avatar in Second Life Lo prendete E poi c'è una funzioncina semplice di Firestorm Che permette di fare l'export XML E analogamente poi questa genera un file XML Che può essere preso e usato Per farci sopra degli abiti Alternativamente invece Blender può importare Delle shape Partendo dall'OBJ Ma questa cosa è molto più complicata Ho fatto anche un video dove spiegavo come si faceva A fare questo mestiere In realtà l'unico modo sensato Si poteva fare con una vecchia versione di Phoenix Viewer Peraltro non più supportata Altrimenti, diciamo, è quasi impossibile Ottenere questa opzione Ok? Poi, cosa c'ha in più? Avastar, oltre all'import e all'export delle shape Ha fondamentalmente il supporto di tutti i cosiddetti shape sliders Quindi su tutti i reghini Le modalità di controllo delle forme della propria shape Che funzionano esattamente come funzionerebbero su Second Life Quindi anche lì a lezione abbiamo fatto una demo Per vedere più o meno come funzionano queste cose E quindi faremo un giro E poi abbiamo invece cosa fa il Workbench Ha anche lui la possibilità Cioè, il Workbench in pratica è un Blender Un pochino arricchito con alcune impostazioni Molto semplici Fra cui anche la possibilità di cambiare il corpo con delle shape keys Le shape keys sono un po' l'equivalente delle shape sliders Ma sono estremamente più semplici E soprattutto non sono uguali a quelle che sono su Second Life E come dice qua, funzionano soltanto sul corpo femminile Ovviamente dice che potete anche lavorarci sopra Tutto per dire che il Workbench è stata una specie regalia fatta qualche anno fa Che non viene supportato L'altra grossissima cosa che c'è a Avastar C'è uno scheletro su cui si può controllare molto bene E soprattutto le ultime ossa Quelle che sono quelle delle fitted mesh Adesso qui non stiamo a dettagliarle integralmente Ma è una cosa abbastanza forte La lezione non l'abbiamo vista completamente Ma vedremo un esempio Invece il Workbench ha uno scheletro molto semplice Che peraltro ha dei difetti Per cui, ad esempio, bisogna lavorare sempre con certi orientamenti Se non si rispettano questi orientamenti diventa un casino L'Avatar diventa tutto storto E via discorrendo Insomma diventa molto più complicato Allora, poi ci sono tante altre cose Voi potete andare qua su questo sito a vedere quali sono Ma ai fini della lezione dell'altra volta Direi che abbiamo visto fondamentalmente le prime due E un pochino accennato lo scheletro Altre cose potete vederlo Non sembrano, almeno a occhio, non sembrano delle cose micidiali Diciamo che sono interessanti Allora, innanzitutto come si fa a installare Avastar? Dobbiamo comprarlo Compra costa, mi sembra, sui 5.000 No, 6.000 linee dollari Circa 22 euro Se non vado errato Adesso non è facilissimo da capire dove si trova Comunque io che l'ho comprato Lo trovo qua nei miei prodotti E nei miei prodotti io ho tutti i miei prodotti Fra qui ho anche Avastar E ho Avastar 1.2 E poi c'è anche la versione Avastar 1.1 Allora, l'Avastar 1.2 va bene Della versione 2.70 in poi L'Avastar 1.1 va bene Per le versioni precedenti A lezione mi è stato detto Che la versione 2.70 E soprattutto l'ultimo Blender Non vanno benissimo assieme Per fare il rigging o per fare le fitted Per cui chi in questo momento Che siamo a ottobre Inizio novembre del 2014 Fa il rigging Di solito si tiene due versioni Una versione vecchia Di Blender Col suo Avastar E una versione nuova Col suo Avastar A seconda di dove vede che gli riesce meglio Secondo alcuni Il nuovo Avastar riesce a rigare meglio Del vecchio Ma non riesce a fare bene le fitted mesh Come vedete quello che viene preso È un punto zip Allora il punto zip è un file Che deve essere scaricato localmente E poi quando entrate in Blender Cosa succede? Dovete fare file User preferences Andate sugli add-on Fate install from files E andate a cercare il vostro file Che lo cerchiamo qua Quindi Avastar 1.2 Avastar 1.2 Blender Quindi facendo qui Facendo install Facciamo install from file E lui si installa Una volta installato Se non lo installo qua Perché l'ho già installato Però fate doppio clic Oppure install from file Date conferma E lui risulta installato Per vedere che è effettivamente installato Fate Avastar Così Vedete che cercando Avastar Mi è comparso il mio classico add-on Ricordiamoci di metterci il buffo Per abilitarlo E qui ci sono alcune cose Che per il momento lasciamo perdere Quindi un'olta che è abilitato Noi abbiamo Avastar pronto Allora per sapere se è pronto Avastar è sufficiente vedere Se qui nel file abbiamo OpenTemplate Oppure anche se facendo add Abbiamo Avastar Oppure anche Shift A Abbiamo Avastar in fondo Ok Allora la cosa più semplice Per capire se abbiamo Avastar tranquillamente Facciamo file OpenTemplate E prendiamo l'Avastar Textured Allora l'Avastar Textured Questo è interessante perché poi è il simbolo di Avastar Vedete che noi abbiamo una donnina vestita Quindi con tutti gli abiti addosso E già rigata Dunque perfetta Si può già esportare Quindi per esportare cosa dovremmo fare Sempre in Object Mode La selezioniamo Le tre parti E poi Ah ecco una cosa di Avastar Che è interessante Che mi sono ricordato adesso Che non ho detto lezione E che tendenzialmente Ha studiato molto Ad esempio un problema Che è l'attaccatura Delle tre porzioni Cioè se voi Esportate in tre pezzi Come ho fatto adesso Il corpo O anche unite Però essendo tre mesh diverse Succede che nella linea di giunzione Fra le tre parti Possono avvenire dei difetti Allora in teoria Quelli di Avastar Hanno studiato in modo tale Che l'export Modifica i riflessi Delle normali In modo tale Da non vedere Le attaccature E questo però solo In una versione Avastar Comunque Qual è la tecnica? Semplicemente si fa File Export E poi si esporta Nella colla da Avastar E a questo punto Abbiamo l'export Diciamo corretto Senza dover fare niente Quindi di particolare Eventualmente c'è qualche opzioncine Questo weld edge normals Questo weld to hold visible Sono quei particolari cose che dicevo Che permettono di risolvere i problemi Della giuntura Al collo ad esempio Adesso vi faccio vedere tutto Tutto il giro Che abbiamo fatto Sappiate che funziona Cioè che questo È un qualche cosa Che poi può essere esportato E importato Su Second Life Ora quello che è interessante È solo di Avastar E vedere Allora voi vedete che questo Avastar sembra una cosa molto strana Perché quando voi rigate Normalmente con Warbench Non ci sono questi simboli qua Ora questo è un modo particolare Che hanno creato loro Di far vedere le ossa Quindi se noi selezioniamo questo Selezioniamo in pratica L'armatura L'armatura può essere praticamente Adesso qui ci sono delle cose Nel senso che posso selezionare Uno di questi oggetti E poi posso Soprattutto quando vado in Pose Mode Vedete che ogni osso Si può muovere Quindi si può muovere E ha delle possibilità Di movimento Prefissate Anche questo è Una caratteristica di Avastar Che sono state costruite E calcolate Le possibili movimenti Del corpo In modo tale Da non assumere O comunque non assumere Delle pose troppo innaturali Cosa che in Warbench Non ci sono Quindi la posa Che si può fare È semplicemente Prendere questo signore qua E poi si può Selezionare Il Andiamo un po' Se riusciamo a selezionare Ecco questo qui L'osso E poi a questo punto Qui si dovrebbe poter Ruotare Quindi R Ruotarlo Vedete che si ruota Allora in teoria Solo lungo Certe possibilità Però se noi prendiamo Ad esempio i piedi Questi La cosa interessante È che Non so se notate Ecco Se io muovo Questo piede Vedete che si muovono Anche altre ossa Perché viene applicato Un meccanismo Usiamo G Viene applicato Un meccanismo Di Si chiama Inversa Cinematica inversa Cinematica inversa Vuol dire che io posso Muovere le ossa Senza che Che questo Diciamo Cioè non senza Cioè Lui fa in modo tale Di muovere le altre ossa In modo tale Che il movimento Che gli sto facendo fare È compatibile Con le giunture Questo permette Praticamente di Per esempio Prendere il braccio Questo E Vedete che lo Posso Alzare Insomma girare E lui fa E agisce Su una parte Consistente Del corpo Come spiegavo In uno dei suoi ultimi video Agisce solo Fino a una certa Zona Cioè fino Al braccio Qua Altrimenti Altrimenti Se agisce Dappertutto Potrebbe essere Diciamo Un po' Complicato Comunque queste Qui sono Le parti Interessanti Control Z Control Z Ma era solo Per spiegarvi Che queste Sono semplici ossa Per essere sicuro Che siano delle ossa Si può anche togliere La rappresentazione D'anelli Andando qua Si fa Shape E te che ci abbiamo Di nuovo Le ossicine Quelle a cui siamo Abituati E possiamo Prendere La visualizzazione Stick In X-Ray E quindi abbiamo Le nostre ossa A cui siamo Abituati Quindi queste Non sono Ne più Ne meno Che le ossa A cui siamo Abituati Ora A lezione Avevo fatto vedere Che è possibile Su Firestorm Ecco Vedete Che sono In Second Life Con il mio Avatar Faccio vedere Come esportare La mia Shape Che è una cosa Interessante Occorre andare Prima in Advanced E poi in Develop Quindi In menu avanzato E poi sviluppo E poi qui Bisogna fare i test Della Rendering Se non vado Errato No Avatar Character Test E poi c'è Appearance To X-ML Allora Facendo Appearance To X-ML Abbiamo La possibilità Di salvarci Il nostro Shape In un formato X-ML E quindi Potremmo Fare Il salvataggio Oppure Abbiamo anche visto Che è possibile Tirare su Una formata X-ML Quindi andando in Appearance Edit Shape Qui è possibile Fare import E si può Tirare su Un file .xml Quindi si può Editare il file Esportarlo Tirarlo giù Importarlo in Avastar E via E via Scorrendo Poi cambiarlo E riportarlo Su Second Life Ok Ora qui Facciamo Usciamo Torniamo Al nostro Al nostro Qua dove eravamo E qui proviamo A importare Il nostro Il nostro Avatar Allora Per l'import Dell'avatar Si può Dunque Si può fare In molti modi Quindi si può fare Import Del Shape As Avastar In realtà C'è anche un'opzione Se non vado errato Che Compare E vedete Perché hanno fatto Le cose Per Gli anelli Per poterli Selezionare Facilmente Qui vedi Load Shape Editor E qui abbiamo La possibilità Di fare Load Shape Anche E quindi Da qua Possiamo Prendere Il nostro Eccolo qua La nostra Shape Che abbiamo Asportato prima E ce la Spostiamo Vedete Che lui Ha importato Una Shape L'ha sostituita Di fatto Alla Shape Precedente Quindi ha Conservato Anche i vestiti E' un po' Interessante Vedere In questa forma Comunque Questa è la mia Shape Riportata In Qui Qui tra Altro Ci abbiamo Se lo andiamo In pose Mode Dovrebbe esserci La possibilità Di fare Il reset Del Snap Rig To pose Insomma Dovrebbe esserci Una possibilità Di riportare A zero La posa Perché facendo così Io ho applicato La mia Shape A ciò Su cui stavo Lavorando Prima Se invece Faccio Un New Nostro Cubone E faccio L'import Vedete Vedete la leggera Differenza Di queste cose Quindi andiamo Su Qua E vedete Che abbiamo L'avatar Praticamente Nella posizione Nella posizione Originale Forse La più interessante L'altro Perché almeno Lo trovate Già vestito Anche se Un po' Scorretto Dunque Qui La cosa Che abbiamo Visto A lezione Era la possibilità Di manipolare Quindi andando Qua sul Cubo Cubetto Quindi dove In questo caso Indica l'avatar Abbiamo qui La possibilità Di manovrare Le sue Tutte le sue Quelle che abbiamo Accanto Le shape slider E come facciamo A manipolare Le manipoliamo Attraverso Queste caratteristiche Vedete Qui dice Le sezioni E noi Le sezioni Andiamo A prendere La più interessante È lo skeleton Lo skeleton Scheletro Indica praticamente Le ossa principali Per il rigging Normale Quindi Questi Sono tutti I selettori Che agiscono Direttamente Sulle ossa Su cui poi Si rigga In realtà Su second life Si può Fare Su molte Più cose Tanto per dire Qui si può Controllare Non so La lunghezza Del collo Vedete Che si alza Posso Controllare La larghezza Del collo Quindi Farlo Quindi vedete Posso fare Il collo Piccolo Posso Inclinare La faccia Insomma Dare Questi Stigmatismi Molte di queste cose Qua Queste sono le dimensioni Della mano Vedete Che le allungo Le diminuiscono Quindi posso Costruire Praticamente Degli avatar A piacimento Questi sono Più o meno Gli stessi Che sono Che sono In second life Ok Allora Questi sono Quelli degli scheletro Con changed Vedo tutti Quelli che sono Cambiate Rispetto al default Vedete che Sono tanti Ecco Alcuni di questi Sono quelli Relativi Ecco Vedete Che alcuni Se noi andiamo Torniamo su No no Questi sono i changed Andiamo sullo skeleton Vedete che Qui sono tutti Quelli dello scheletro Se andiamo su Dunque Qui ci sarà anche Un all Pensavo ci fossero Quindi l'all In questo caso Epic Altro changed Vedete che Abbiamo alcune ossa Che hanno il simbolino Dell'avatar E altri no Quelli lì Sono appunto Quelli famosi Di prima Peraltro Noi posso Posso anche fare I valori Posso fare Reset Ai valori Default Quindi ecco Questo qui sarebbe L'avatar Di default Quindi per il Per il mask Vedete che L'ha Risportato Al valore Faccio Control Z Torno prima Quindi queste sono Le differenze Tra il mio avatar Più o meno Con tutti i ritocchi Che abbiamo fatto Adesso E l'avatar Di default Allora Tutte queste cose Sono importanti Perché poi Quando si fanno Gli abiti Può essere importante Vedere Anche nelle fitted Si fa Praticamente Si mettono gli abiti E poi si prova A vedere Come funzionerebbe Se per caso Fosse indossato Da qualcuno Che ha Delle Non so Tipo un po' più grasso Un po' più magro Quindi per dire Qua si può andare Sul Sulla parte Di pantaloni Shirt Vabbè Quanto è lunga La shirt Eccetera No Quindi sono Beh Torso legs Quindi ad esempio Se volete vedere Se qualcuno Ha I muscoli Più grandi O più piccoli Come verrebbe Con i vostri abiti Perché poi Gli abiti Soprattutto le fitted Si un po' seguono Alcune di queste osse Ma non tutte E quindi Questo permette Di fare delle prove Di questo tipo Senza dover Entrare In second Life Oppure Come anche ho detto In lezione Si può usare Questa tecnica Per fare dei manichini Delle cose Per altre Per altre cose Quindi per esportare Il proprio avatar Su altri mondi virtuali Insomma Chi più ne ha Più ne metta Allora Solo per riassumere Allora Poi nella prossima settimana Andremo Ancora un po' avanti Con altre differenze Di avatar Se ne troviamo Sul rigging Ma nel frattempo Diciamo che Già queste cose Che abbiamo detto Non sono malaccio Cioè per chi fa Un uso Professionale Di second life C'è la possibilità Quindi di prendere Degli avatar Di ricopiarsene Di portarsene Su cui Da usare Come manichini La possibilità Quindi Di modellarle Di esportarle Su second life Per chi fa avatar Senza i difetti Che a volte Succedono Con workbench Insomma Teoricamente Alcuni degli algoritmi Poi daremo Soprattutto sui pesi Teorie dovrebbero essere Un pochino Più rapidi Anche su avastar Il fatto che siamo Più facili Invece Non lo posso dire Di preciso Perché comunque Il rigging È sempre una cosa Complicata Quindi diciamo che Avastar Al limite Aiuta un po' Ma non risolve Quindi se non sapete Da dove partire Per rigare È inutile Che partiate Con Avastar Anche se alcune cose Ve le fa un pochino Più facili Quindi diciamo che Questo super giù È quanto ci siamo detti Nella lezione Di mercoledì scorso E ci rivediamo Martedì scorso Ci rivediamo La prossima settimana Buonasera